C'è un PC anche per te da Telcom. Vieni, scegli, risparmi e ti assicuri un'assistenza continua e puntuale. Telcom. I servizi. Vendita e assistenza personal computer, notebook, tablet, stampanti, toner e cartucce compatibili. Realizzazione siti web e software aziendali personalizzabili. Rivenditore ufficiale consumabili EcoPrint. Il PC per esigenze domestiche e servizi anche per piccole e medie aziende. Con assistenza mediante controllo remoto. Sempre a disposizione per valutare ed effettuare una diagnosi gratuita del vostro computer. Grazie a tutti.